Buongiorno ragazzi, qui su questo nuovo video di Il Badoo, oggi ragazzi siamo qua per parlare della quinta giornata di Champions League, più precisamente per parlare del match tra Borussia Mönchengladbach e Inter, che vede l'Inter vincere tra due e riaprire clamorosamente il girone, dato che sembrava un girone all'inizio, quando sono riusciti al sorteggio, sembra un giorno scontato in cui il primo posto se lo giocavano la Spagnola, il Real Madrid dell'Inter, e invece adesso abbiamo un Borussia Mönchengladbach primo ad otto punti, un Shakhtar Gonex secondo sette, a pari merito il Real Madrid, ma dietro per via degli scontri retti, e l'Inter a 5, perciò in questo istante possono ancora tutti, con una giornata alla fine, possono ancora tutti passare come possono rimanere ancora tutti a casa. Detto questo, analizziamo il match, l'Inter parte subito fortissimo, fino ai primi 15 minuti con un pressing altissimo e domina il match, infatti ha due buonissime occasioni a gol, ma che non riesce ad approfittare, non riesce ad approfittare di queste buone occasioni, e di conseguenza la terza è quella buona, perché arriva Darmian con un tiro molto preciso, tunnel ai danni di Sommer e 1-0 Inter. Fino al trentesimo il campo viene tenuto in modo egregio da parte della squadra nero-azzurra, che però poi pian piano cala, e di conseguenza prende campo il Mönchengladbach fino a trovare il gol dell'1-1 al 45esimo con Alassane Plea. È però nel secondo tempo che succede veramente di tutto. Cambio del Mönchengladbach che mette Zaccaria al centro della difesa e inizialmente un centrocampista, una mossa azzardata da parte del tecnico tedesco, Marco Rose, e all'inizio sembra premiare, ma poi pian piano Lukaku dilaga. Prima un palo però di Lautaro Martinez, ma Lukaku alla prima occasione che riesce a prendere spazio su Zaccaria, un tiro a incrociare di destro col piede debole e Sommer battuto, 2-1 Inter. Subito dopo l'Inter non molla, è padrone ormai del gioco, del campo, e Achini scorazzala, praticamente distrugge la fascia, si porta davanti al portiere, palle e mezzo, si porta sul fondo, palle e mezzo, Lukaku davanti al portiere, realizza un gol che l'anno scorso spesso ha sbagliato, ricordiamo soprattutto quello in finale di Europa League. Invece si porta sul 3-1 l'Inter, la partita sembra finita, ma al 75esimo, questo arriva il 3-1, al 77esimo Sanchez stop un pallone, ha la prima possibilità per lanciare su Achimi e probabilmente metterlo davanti alla porta, o comunque in buonissima occasione da gol. Attende, fa una finta, si fa rimontare, il pressing è portato benissimo a Mönchengladbach, trova spazio e il Mönchengladbach in contropiede segna il 3-2 e la partita è riaperta, un finale che si prospetta clamoroso. L'Inter subito dopo l'ottantesimo di nuovo, la possibilità per chiuderla, ma Ashley Young davanti alla porta sbaglia un gol clamoroso, e allora ci si prepara tutto per gli ultimi minuti. Gol del Borussia Mönchengladbach che sembra mettere fuori ormai l'Inter, gol di Plea che sarebbe la sua seconda doppietta, tripletta, nella storia di Mönchengladbach nei giorni di Champions League, e invece viene tutto annullato per un fuorigioco di Embolo che incide sulla posizione e di conseguenza disturba Andanovic. Gol annullato e gli ultimi minuti sono praticamente al cardiopalma, perché c'è il Mönchengladbach che ci prova in tutti i modi, anche in modo molto confusionale, poi la partita pian piano, per fortuna nel recupero, va scemando, per passatemi il termine, diciamo si tranquillizza molto fino alla fine in cui l'Inter riesce a gestire la palla nell'area di rigore, nella sua zona d'attacco. L'Inter che ora, grazie a questa buona prestazione, si porta a 5 punti come detto prima e ha una buonissima chance battendo lo Shakhtar e sperando in un non pareggio di Real Madrid e Borussia Mönchengladbach di riuscire comunque a passare un girone che fino alla settimana fa sembrava ormai impossibile, sembrava perso. Detto questo, vorrei parlare semplicemente del modulo 3-5-2 di Antonio Conte, oggi e anche contro il Sassuolo finalmente si è visto il 3-5-2 di Antonio Conte, infatti ha pagato a mio parere, perché la squadra è più solida, si sono stati presi due gol ma in circostanze veramente, cioè più che altro per errori dei singoli, mentre prima sembrava un po' tutta la difesa sembrava un po' tutta la difesa in bambola, ora più che altro sono arrivati i gol per errori dei singoli, prima di Sanchez, con difesa scoperta, attende, attende, si fa rubare la palla e arriva il gol e poi sul primo gol invece una buona azione di Mönchengladbach ma Skriniar che perde una marcatura principalmente. Detto questo, vorrei fare appunto come detto, il 3-5-2 di Conte è il suo modulo, lo sa far bene, è quello che ha portato e l'ha fatto vincere dappertutto e non so perché ha continuato a sperimentare in questa prima parte di stagione, dato che alla fine quando mette i suoi uomini, li mette nel modo in cui vuole lui, la squadra raggiunge i risultati sperati. Ancora oggi il migliore in campo è Romelu Lukaku che si è preso tanti tanti insulti, no, più che altro molte persone erano scettiche al suo arrivo un anno fa, molte lo erano alla fine della prima stagione perché sbagliavano nelle partite importanti, oggi mio parere ha dimostrato che Romelu Lukaku c'è sempre. Invece se dovessi dare un peggiore lo dovrei dare mio malgrado probabilmente a Skriniar che in realtà ha fatto comunque un'ottima partita, però l'erroraccio sul primo gol poteva costare addirittura la qualificazione, cioè la possibilità di qualificazione. Detto questo, del vado è tutto, ci vediamo domani, ciao ragazzi.